Siamo ormai alla vigilia delle feste di Natale e saranno delle feste sicuramente particolari, così come particolare e difficile è stato tutto quest'anno. Un'attenzione ancora in più ci sarà dalle forze dell'ordine. Come vi state organizzando? Io credo preliminarmente che questo sia il Natale più particolare della nostra vita. È un Natale giocoforza diverso dagli altri perché dovremmo purtroppo affrontarlo e convivere con questo virus che ci auguriamo possa andare via almeno nel prossimo anno. Da parte nostra il lavoro in tutto questo periodo segnato dalla pandemia non è mai diminuito, anzi è un lavoro che è andato avanti con grandissimo impegno e senza soluzioni di continuità. Da marzo scorso e continuerà nei prossimi mesi. Un significato particolare è anche la classifica del report nazionale che ha visto affare la città di Brindisi proprio su giustizia e sicurezza un passo importante in avanti. Per chi lavora sul campo che significato ha questo risultato? Allora scalare le posizioni in maniera così strabiliante direi perché si tratta di 40 più o meno posti è un fatto sicuramente che ci dà una grande spinta, un grande entusiasmo, una grandissima soddisfazione in considerazione del fatto che le forze di polizia hanno concorso in maniera decisa al raggiungimento di questo risultato straordinario.